Episodio a dir poco inquietante nel pomeriggio di sabato scorso a Montevarchi in Viale Matteotti. Verso le 16 un baby rapinatore 14enne, residente in Val d'Arno ma di origini rumene, ha minacciato con un coltello a serramanico un coetaneo, intimandogli di consegnare la piccola borsa con dentro il cellulare. Poi si è dato alla fuga ma il ragazzino derubato non ha perso tempo, ha dato l'allarme e si è rivolto ai carabinieri della compagnia di San Giovanni. Giunti sul posto in pochi minuti, i militari hanno rintracciato in modo altrettanto rapido e rapinatore, recuperando il telefono e restituendolo al legittimo proprietario. Sequestrato, come è logico, il coltello. Il giovanissimo autore della rapina è stato arrestato e trasferito all'istituto penale per minorenni di Firenze. Sempre nella serata di sabato e ancora a Montevarchi un altro episodio movimentato nella chiesa di Santa Maria al Giglio. Un nigeriano di 39 anni senza fissa dimora è stato fermato e tratto in arresto. Dovrà rispondere di violazione di domicilio e di danneggiamento. Ubriaco aveva cercato di entrare in chiesa sfondando il portone e facendo il diavolo a quattro nei bagni. Il parroco ha chiamato i carabinieri di Levane che al loro arrivo sono stati aggrediti dall'africano, alla fine immobilizzato, arrestato e trasferito nella camera di sicurezza della caserma di San Giovanni.